Buongiorno a tutti, io sono Alberto Mongerofarello, uno dei tre docenti di questo corso di tecnica di programmazione. Ci sarò ogni tanto a lezione per adesso su questi schermi e anche ogni tanto a laboratorio, se mai ci andremo. A parte gli scherzi, oggi in questa lezione vedremo un primo esercizio completo in JavaFX. Quindi se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di guardarvi la lezione prima del professor Corno che introduce JavaFX con le sue caratteristiche di base, prima di seguire questa. Ma prima di iniziare con l'esercizio, vi faccio notare che io utilizzo Mac, quindi ci sono alcune differenze tra Windows e Mac nell'installazione dei programmi che useremo per questo corso. Trovate tutto sui file di installazione che abbiamo preparato e vi abbiamo condiviso sul sito. In poche parole, su Mac, al posto di JDK11, vi consigliamo di installare la versione 13 di Adopt OpenJDK, perché altrimenti potreste trovare dei problemi nell'installazione di Eclipse. Non cambia niente dal punto di vista della programmazione, quindi cambia solo l'installazione di JDK, dopodiché rimane tutto uguale. Un'altra differenza, la vedremo poi più avanti, è che mentre su Windows abbiamo consigliato di installare MariaDB come motore MySQL, su Mac, almeno io consiglio, per me è più facile installare MySQL, perché è più facile da installare, si integra bene con le preferenze di sistema, si può anche installare MariaDB, scegliete voi, io vi consiglio MySQL. Va bene, detto questo possiamo cominciare con il nostro esercizio, abbiamo pensato di strutturare un banalissimo giochino, di cui vi ho preparato le istruzioni qui, quindi mettiamo schermo intero, perfetto. Il gioco si chiama Indovina il numero, quindi vogliamo realizzare un programma JavaFX in grado di permettere all'utente di indovinare un numero, che è un numero casuale inventato dal programma tra 1 ed Nmax, estremi compresi. Nmax è una variabile che conosce il programma, quindi l'utente deve tentare di indovinare il numero, e ad ogni tentativo il programma può rispondere in tre modi, numero esatto, tentativo troppo basso, tentativo troppo alto. L'utente ha un numero di tentativi limitato, definito da Tmax, un'altra variabile che conosce il nostro programma, e in ogni momento il programma visualizza il numero di tentativi ancora disponibili. Quindi in sostanza una partita può terminare perché il numero è stato indovinato, oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili, e quindi in questo caso abbiamo perso, e in questo caso anche il programma mostra il numero segreto. Al termine di una partita se ne può iniziare una nuova con un nuovo numero casuale. Quindi queste sono le specifiche del nostro programma che dobbiamo implementare, poi ci sono tutta una serie di estensioni possibili che potrete provare, o magari vedremo anche insieme. E quindi possiamo partire da zero a costruire insieme questo programma con JavaFX. Quindi crea un nuovo progetto, e avete visto che utilizziamo dei progetti Maven. Utilizziamo il nostro workspace che abbiamo definito in precedenza, e qui aspettiamo che Maven si vada a scaricare tutti gli archetipi. Cosa sono gli archetipi? Sono una sorta di struttura di classi Java file che Maven ci prepara già per noi, per poter iniziare il programma già da una solida base. Allora, se voi digitate TDP nel campo filtro, dovreste già trovare l'archetipo che abbiamo creato apposta per questo sito, che è questo qua, versione 2.0.0. Se non lo trovate, c'è anche la possibilità di aggiungerlo una volta all'inizio manualmente. Quindi con questo bottone, Add Archetype, potete specificare i vari campi lasciando vuoto l'URL. I vari campi li trovate sui file di installazione, non sto qui a ripeterveli, e lui ve lo aggiunge manualmente la prima volta e poi lo trovate per sempre. Comunque, io l'ho trovato e posso cliccare su Next. Allora, dobbiamo inserire alcuni campi. Il primo è il group ID, che in sostanza sarà la prima parte del nostro package name, quindi consigliamo hit.polito.tdp e il nome dell'artifatto. Quindi in questo caso è il nome del programma. Possiamo chiamarlo indovina il numero. Perfetto. Vedete che il package name è rimasto questo qui. Finish. Lui ci ragiona un po' e ci crea la struttura base del nostro progetto. Come vedete abbiamo il package nei sorgenti con tre file. La classe main, che è semplicemente quella che useremo per lanciare il programma. La classe entry point, che è chiamata dal main, fa alcune operazioni preliminari, come associare il file fxml, che contiene la nostra interfaccia grafica, al programma. E poi il file più importante, in questo caso il controller, dove c'è tutta la logica di gestione dei click dei bottoni, di stampa dei messaggi, ed è proprio il file che andremo a modificare oggi. C'è ancora un file molto importante, che è proprio il file fxml, che contiene le interfacce grafiche. E questo si trova nella cartella di risorse, nella cartella fxml. Eccolo qui. Allora, per aprire file fxml, quindi come primo passo adesso direi che possiamo strutturare la nostra interfaccia grafica, usiamo simbuilder. Allora, per aprirlo con simbuilder, ora nel mio caso è già associato, ma posso fare tasto destro, apri con, possiamo cliccare su simbuilder e dire usa questa applicazione per tutti i file fxml. Ovviamente su Windows si farà in un altro modo, ma lo vedrete magari, o lo avete già visto dagli esempi del professor Corno. Clicco su ok. E lui mi apre il file. Allora, qui c'è l'interfaccia grafica che l'archetipo crea lui da solo. Non mi piace, ne vogliamo creare una nuova, e quindi vado a eliminare tutti i suoi componenti. Delete. Perfetto. Allora, come strutturiamo le interfacce grafiche? Il primo elemento che andiamo a mettere è di solito, per semplicità, un border pane. Lo trovate qui. Border pane, lo prendo e lo trascino qui. Cosa permette di fare il border pane? Permette di inserire altri elementi, quindi è un contenitore, e di inserirli facilmente in alto, a sinistra, in centro, a destra o al fondo. Quindi è un contenitore che offre delle funzionalità in più che possiamo sfruttare. Ad esempio io in alto potrei metterci il titolo del programma, quindi vado a cercare una label e la trascino nel top. Top e scrivo, indovina, il numero. Ottimo. Dopodiché, iniziamo a ragionare sull'interfaccia. Allora, che azioni potrà compiere l'utente? Direi sostanzialmente due. La prima è iniziare una nuova partita. La seconda è, ovviamente, fare un tentativo. Quindi io mi potrei immaginare sicuramente un bottone da cliccare per iniziare una nuova partita. E poi mi posso immaginare un'area di testo dove poter inserire un tentativo con il relativo bottone per provarlo. Giusto? Oltre a questo, ovviamente ci serviranno una o due aree di testo per stampare il numero di tentativi rimasti e il messaggio del programma, quindi tentativo troppo alto, tentativo troppo basso. Benissimo. Quindi, iniziamo a inserire un bottone per la nuova partita. Lo inserisco al centro. Come testo possiamo scrivere nuova partita. Ottimo. Adesso, ovviamente, questo bottone non lo vorrei al centro, lo vorrei magari in alto a sinistra. Come facciamo? Possiamo inserire un altro oggetto, un altro componente contenitore, che si chiama AnchorPain. AnchorPain ci permette di ancorare i nostri componenti partendo ad esempio da sinistra, oppure da destra, oppure dal basso, oppure dall'alto. Quindi lo vado a prendere e lo vado a inserire al centro. Ovviamente, fatemi eliminare un attimo il bottone. Inseriamo prima l'AnchorPain. Eccolo qua. E all'interno dell'AnchorPain inseriamo il bottone. Quindi il flusso giusto è questo qui. Perfetto. Allora, iniziamo a sistemare un po' il nostro AnchorPain. Vedete che è una dimensione spropositata. Se noi andiamo su Layout, possiamo levare la Size predefinita e dire Use Computed Size. E dobbiamo farlo anche per il BorderPain. Quindi per tutti i componenti andiamo a dirgli Use Computed Size. Ovvero, l'interfaccia si adatta a quanti componenti mettiamo all'interno dei contenitori. Benissimo. Diamo un testo a questo bottone. Nuova partita. E ancoriamolo, ad esempio, a sinistra. Quindi gli diamo 10 pixel di margine da sinistra. Quindi questo bottone è ancorato sulla sinistra a 10 pixel dal margine. Perfetto. Potremmo adesso pensare di, sulla sinistra del bottone, mettere un'area di testo per visualizzare i tentativi rimasti. Quindi vado a prendermi una label e la inserisco nell'anchor pane. D'accordo? Questa label la ancoro sulla sinistra. Quindi, ad esempio, posso dirgli a 10 pixel dal margine destro, scusate. Allora, vedete che il problema è che, comunque, il bottone e la label sono sovrapposti. Questo perché dobbiamo, a loro volta, inserire questi due componenti in una riga, ovvero un H-box. Quindi il flusso è questo. Vedete che ora li trascino all'interno dell'H-box. Il flusso è questo. Inserisco l'anchor pane. All'interno dell'anchor pane posso inserire delle righe di componenti, componenti che devono stare in riga. Quindi abbiamo il bottone, la label a cui ora do un testo, tentativi rimasti. E dopo la label posso metterci un'area di testo, text field. No, l'ho messa troppo all'interno, scusate. Non è facile trascinare questi componenti. Al cui interno andrò a mettere, andrò a stampare, il programma andrà a stampare il numero di tentativi rimasti. Dopo sistemiamo bene la distanza e il fatto che questa sia parzialmente coperta. Ottimo. Adesso mi immagino una riga successiva in cui ci sia, in cui ci sia, ci siano i componenti per fare un nuovo tentativo. Quindi un'altra area di testo con un bottone prova, prova tentativo. Allora cosa mi serve? Un altro H-box, un'altra riga da mettere sotto a quella che ho appena creato. Quindi H-box sotto quello precedente, non dentro ovviamente. Ecco qua. No, è ancora dentro. Allora lo metto qui e poi lo trascino poi sotto dopo. Vediamo adesso. Eccolo qua, perfetto. Al cui interno mettiamo un text field per permettere all'utente di inserire un nuovo tentativo e un bottone per provare il tentativo. Dove il testo sarà, ad esempio, prova. Allora, vedete un altro problema. L'H-box che ho appena inserito si è andato a mettere esattamente sopra alla riga che avevo già definito. Questo perché dobbiamo ancora aggiungere un contenitore esterno, un vertical box. Quindi il flusso alla fine della fiera sarà vertical box che contiene varie righe, quindi vari H-box. Quindi vado a prendere un V-box, eccolo qua, e lo vado a inserire qui e all'interno del vertical box vado a metterci i due H-box che ho appena creato. Ovviamente dobbiamo dire all'H-box, anche a lui, di non usare delle size predefinite. E lo dobbiamo dire anche a tutti gli H-box. Quindi a tutti i contenitori, diciamo, aggiornatevi con le dimensioni effettive dei componenti che abbiamo messo all'interno. Oh, iniziamo già a ragionare. Adesso, cosa manca? Manca solo più l'area di testo dove il programma stamperà i vari messaggi. Questa sarà un'area di testo magari un po' più grande rispetto a un text field, perché magari stamperà vari messaggi uno per riga, quindi vado a prendere una text area e la vado a mettere in bottom, cioè al fondo del mio contenitore principale che è il border pane. Use computed size anche per la text area. Perfetto. Adesso l'ultima cosa che possiamo fare è aggiungere un po' di margini. Vedete che qui i componenti sono tutti molto vicini. Allora, posso innanzitutto dire che questo H-box voglio un po' di margine dall'alto, quindi dalla label, e un po' di margine sul basso verso l'altro H-box. Magari diamo anche un po' di margine sul basso a questo H-box qui. Oh, ok. E poi magari diamo un po' di margine anche sulla sinistra. Questo glielo possiamo dare direttamente al V-box che è all'interno del anchor pane. Quindi, in sostanza, ancoriamo il vertical box al margine sinistro con 10 pixel di margine. Perfetto. Allora, mi accorgo adesso di aver fatto un piccolo errore, nel senso che, ovviamente, l'utilizzo di questo anchor pane adesso è un po' superfluo perché qui ancoriamo all'anchor pane solo il vertical box. Vedete come unico elemento è ancorato sulla sinistra. Se noi volessimo sfruttare meglio l'anchor pane, dovremmo strutturare l'interfaccia in modo un po' diverso, cioè ancorare, ad esempio, questa label e questa area di testo sulla destra dell'anchor pane. Ma non ce ne preoccupiamo molto, l'importante adesso è che tutto funzioni, anzi, potremmo addirittura eliminare, no? Eliminiamolo. Andiamo a sinistra. Questo lo elimino. E questo lo riporto qui. D'accordo? Dimentichiamo per un attimo l'anchor pane. Lasciamo solo il vertical box. Diamo un po' di margine ancora tra questi due componenti. Ad esempio possiamo darlo al bottone. Un margine a destra di 10. E magari un margine a destra di 10 anche qui. E un margine anche qui. Va bene, mi sembra abbastanza ragionevole. Abbiamo tolto l'anchor pane. Quindi ridiamo anche in margine all'intero box sulla sinistra. Vedete che si è spostato tutto verso sinistra. Ottimo. Adesso l'altra cosa importante da fare è capire quali di questi componenti dovremmo modellare, utilizzare nel nostro programma. Mi spiego. Un esempio classico sono i bottoni. Ai bottoni dovremmo associare ovviamente degli eventi, degli event handler, per eseguire del codice quando l'utente clicca su uno di essi. Quindi a tutti questi componenti occorre assegnare innanzitutto un identificativo. Quindi a tutti i componenti che noi pensiamo di poi utilizzare nel nostro programma Java occorre assegnare un ID. Quindi il bottone nuova partita sicuramente avrà un ID. Nella tab code, eccolo qui, c'è un campo FXID. Vado a chiamarlo come BTN nuova. D'accordo? E' importante che anche i nomi abbiano un po' di senso perché altrimenti poi non sappiamo più che cosa fanno. Poi abbiamo ancora un altro bottone che è il bottone prova. BTN prova. Ma non basta. Ci sono anche altri elementi che utilizzeremo dal programma. Ad esempio le aree di testo. Le aree di testo le utilizzeremo per stampare dei messaggi o per prendere l'input dell'utente. Ad esempio questa la possiamo chiamare txt rimasti. E questa è txt tentativi. Questa invece sarà txt risultato. D'accordo? Un'altra cosa da fare è, oltre agli ID, dobbiamo anche già definire qui dentro gli event handler che dovremmo implementare nel codice. Gli event handler sono tipicamente associati ai bottoni e sono i metodi che il nostro programma eseguirà quando l'utente cliccherà il bottone. Quindi sul bottone nuova partita io definisco un'azione che poi implementerò in java. Ad esempio do nuova. Stessa cosa sul bottone prova. Ad esempio do tentativo. Quindi fai un tentativo. Perfetto. Possiamo ancora aggiungere una funzionalità. Ragioniamo sulle aree di testo. Ci sono alcune aree di testo che vengono usate per recepire l'input dell'utente. Quindi devono essere scrivibili. Altre invece... Altre invece no. Altre invece servono solamente come stampa di messaggi. Come quella dei tentativi rimasti. Questa non deve essere scrivibile dall'utente ma solo dal programma. E quindi possiamo dire che questa area di testo è disabilitata. Stessa cosa per l'area risultati. Non è editabile ma è disabilitata. Stamperemo solo dei messaggi. Possiamo anche... No lasciamola così per il momento. Mentre questo... Quest'area di testo invece è ovviamente editabile. È disponibile all'utente per inserire un nuovo tentativo. Altra cosa potremmo anche aggiungere il controllo che se l'utente non ha ancora cliccato sul bottone nuova partita non possa fare un tentativo. Come facciamo a fare questo? In sostanza possiamo disabilitare all'inizio l'intero hbox contenente i componenti per fare il tentativo. Se io qui vado su proprietà da qualche parte dovrebbe esserci un disable. Lo posso anche cercare. Se io disabilito vedete che il bottone diventa non cliccabile così come l'area di testo. Se facciamo così, quindi se vogliamo disabilitare tutto l'hbox, ovviamente poi noi questo hbox lo dovremo riabilitare lato codice quando l'utente cliccherà nuova partita. Quindi dovremmo avere un riferimento lato codice. Dobbiamo avere un riferimento, ci serve un id anche per l'hbox. Questo è il succo. Quindi nel codice chiamiamo layout tentativo. Perfetto. Possiamo farci, adesso se siamo soddisfatti, salviamo e possiamo farci generare lo scheletro del controller da simbuilder. Eccolo qua. Vedete che abbiamo già tutti i riferimenti ai vari event handler e ai vari componenti a cui abbiamo dato un id. Allora io copio tutto. Posso anche copiarlo di qui. Lo riduco per il momento ad icona. Vado su eclipse. Eccoci qui, vado sul mio controller, cancello tutto e vado a incollare il mio controller. Dobbiamo dare il nome corretto al controller. Fatemi vedere qual era. Fxml controller, certo, ovviamente. Questo è il nome della classe controller, quindi fxml controller. Salviamo. E a quanto pare non ci sono... C'è un errorino. Dobbiamo anche aggiungere il package. E lui adesso dovrebbe essere contento se salviamo. Ottimo. Allora. Ragioniamo un po' come prima cosa sul gioco e quindi sullo stato che deve il programma avere al suo interno. Allora, se io apro di nuovo le istruzioni, sicuramente il programma dovrà conoscere nmax e tmax. Questi sono due parametri fissi che il programma ha. Private, private, final, int, nmax. Supponiamo 100. Quindi indoviniamo numeri tra 1 e 100. E poi, private, final, int, tmax. Allora, quanti tentativi mi servono per indovinare un numero tra 1 e 100? Beh, se gioco bene, circa 7-8. Perché io ogni volta, per giocare bene, dovrei puntare sempre al centro dell'intervallo. In modo tale che io possa scartare la metà dei tentativi disponibili. Ad esempio, se io come primo numero gioco 50, il programma se mi dice troppo basso, io scarterò tutti i numeri prima del 50. Quindi scarto metà dell'intervallo. In 7-8 tentativi ce la faccio effettivamente a indovinare il numero. Diciamo 8. Poi, cosa deve sapere il programma? Beh, sicuramente il segreto. Private. Questo segreto cambierà nel tempo. A ogni nuova partita sarà diverso. Quindi non è più final. Non possiamo più assegnargli un valore qui. Iniziamo qui solo a definire la variabile. Segreto. Poi dovremmo sapere il numero di tentativi fatti dall'utente. E magari possiamo anche pensare a una variabile booleana che ci dice se siamo ancora in gioco oppure no. Variabile che inizializziamo a falso all'inizio perché l'utente non ha ancora cliccato sul bottone nuova partita. Ottimo, salviamo. Adesso andiamo a pensare a cosa fare nel primo event handler. Questo do nuova, vi ricordo che è l'evento associato al click del bottone nuova partita. Allora, quando l'utente clicca una nuova partita. Quindi, gestione dell'inizio di una nuova partita. Logica del gioco. Allora, cosa dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo tirare a caso un nuovo segreto da fare indovinare all'utente. Come facciamo? C'è la classe, ogni tanto faccio delle domande ma ovviamente voi non potete rispondervi. C'è la classe mat.random. Cioè c'è il metodo random, scusate, della classe mat.random. Cosa fa il metodo random? Ritorna un double compreso, in sostanza, tra 0 compreso e 1 non compreso. D'accordo? Noi da qui, da 0 a 0,9999 vogliamo arrivare all'intervallo 1-100. Come facciamo? Beh, facilissimo. Allora, innanzitutto moltiplichiamo questo per n max. L'ho chiamato così? Sì, sì. E ne prendiamo la parte intera. Quindi, fatto così, adesso prendiamo questo numero random tra 0 e 0,9999, lo moltiplichiamo per 100 e ne prendiamo la parte intera e in sostanza abbiamo numeri che vanno da 0 a 99. E beh, per arrivare all'intervallo 1-100 basta aggiungerci 1. Perfetto. Ovviamente, iniziata la partita, i tentativi fatti sono 0 e siamo ufficialmente in gioco. Queste sono le operazioni di logica, ma vi ricordo che dobbiamo gestire anche l'interfaccia, perché banalmente dobbiamo abilitare l'hbox per l'inserimento di un nuovo tentativo. Quindi, come l'ho chiamato, layout tentativo, punto, set, no? Set, disable, falso. Giusto? Poi magari puliamo l'area di testo, se magari c'è qualche messaggio, messaggio vecchio, l'ho chiamata txtrisultato, punto clear. Cosa dobbiamo ancora fare? Ah sì, andare a inserire il numero di tentativi rimasti nell'area di testo. Quindi txtrimasti.settext. Questo è tmax, numero di tentativi massimi. Ovviamente si arrabbia perché gli ho passato un int. Per trasformare tmax in stringa posso usare integer, punto, to string, mi pare, to string, sì, tra parentesi, tmax. Oh, molto bene. Proviamolo. Vi consiglio sempre di non aspettare la fine del programma per provare a lanciare, a lanciarlo. Perché tipicamente se usate questa tecnica, ad esempio all'esame, voi arrivate alla fine, cliccate su run e il computer esplode. Ok? Quindi ogni volta che fate un pezzettino, provatelo, vedete se funziona quel pezzettino, sistemate quel pezzettino e poi andate avanti. Quindi vado sul main oppure faccio qui tasto destro, run as java application. Che è successo? Ovviamente come vedete c'è un errore. Mi dice che nel fxml non è specificato il controller. Allora aspettate un attimo, se io apro qui l'fxml, da qualche parte c'è la possibilità di dirgli, eccolo qua, il tab, la classe, come si chiama, la classe del controller. La classe del controller si chiama fxmlcontroller. Quindi io qui scrivo fxmlcontroller. Salvo. Per sicurezza, vado ad aprirmelo anche qua dentro, per vedere se effettivamente lui abbia inserito il controller. Non sembra. Forse non l'ho salvato. Eccoli qua, forse ora l'hai salvato. Proviamolo. Main. Run as java application. Direi di no. Sempre no controller specified. Riapriamolo un attimo. Fxcontroller. Fxml. Controller. Forse dobbiamo specificargli tutto il package. Doviamo un po' adesso. Ancora. No, adesso c'è. Ok, quindi chiudo un attimo così vi spiego cosa ho fatto. Nel file fxml, nel tab controller qui a sinistra, dobbiamo sempre andargli a dire qual è la classe controller che controllerà questo file. Non solo la classe, ma tutto il path del package. Quindi hit, polito, tdp, indovina numero, punto, la classe che sarà sempre fxml controller. Torniamo di qui. Rilanciamolo, se non l'ho già fatto, no. Ecco qui la mia bellissima interfaccia. Allora, se clicco nuova partita, mi aspetto che cosa? Che qui appaia il numero di tentativi rimasti e che venga abilitata questa riga qui per il nuovo tentativo. Proviamo. Sì, direi che ci siamo. 8 tentativi rimasti. Possiamo andare ad agire adesso su questi due componenti. Perfetto. Chiudiamo. Torniamo nel controller. E passiamo a definire il metodo più interessante che è quello per fare un nuovo tentativo. Prima cosa da fare. Ovviamente leggere l'input dell'utente. Vado a prendermi il valore che l'utente ha scritto dal txt tentativi. No, come l'ho chiamato? Perché txt tentativi? Sì, txt tentativi. Punto. Get text. E' una stringa ovviamente, quindi la salvo in una variabile stringa. Noi non vogliamo una stringa perché i tentativi sono numeri. Devo convertire questa stringa in un intero. Int tentativo uguale. Come posso fare? Beh, la classe integer mi offre, oltre al metodo toString che abbiamo utilizzato, anche dei metodi per parsificare una stringa. Quindi parse int a cui passo la mia stringa. Ma a questo punto cosa succede se io sbaglio l'input? Cosa succede se io, ad esempio, scrivo tippo? Io vado a vedere qui, dovrebbe darmi un'eccezione. Non so perché non me la dia. Comunque vi assicuro che dovrebbe darvi un'eccezione, perché ovviamente pippo non è un numero. Quindi il concetto che voglio farvi passare è che l'input va sempre controllato. Questo sarà un punto banale che vedete in una delle prime video lezioni, ma vi assicuro che un punto dell'esame fondamentale è sempre controllare l'input. Perché se non controllate l'input, il vostro programma rischia di non funzionare. Come faccio a capire se l'input è corretto? Vabbè, posso usare un try catch. Cioè, visto che questa parse int, eccolo qua. Ora non so per quale motivo non l'abbia generata, ma se la stringa non è un intero, questo metodo scatena un'eccezione di number format exception. Quindi io la posso catturare. Allora, all'interno dell'errore, del possibile errore, posso stampare un messaggio. Texti risultato punto append text all'area di testo risultato. Quindi, ad esempio, devi inserire un numero. E dopodiché ritorno subito, non vado avanti perché l'input non è corretto. Ho detto all'utente, per favore, inseriscimi un numero. Se invece arrivo qui, quindi non eseguo mai questa return, vuol dire che il mio intero, il mio tentativo era effettivamente un numero. Ora, per poter usare questa variabile, che al momento vive solo all'interno di queste due parentesi, devo definirla prima fuori. Quindi prima del try-catch e poi dire tentativo uguale. Oh, benissimo. Adesso, l'utente ha fatto un tentativo. Quindi decremento il numero di tentativi rimasti. No. Scusate, non decremento quello, ma incremento i tentativi fatti. Gli avevo chiamati così, sì. Quindi dis.tentativi fatti più più. È solo il modo inverso di ragionare. Perfetto. Cosa posso controllare subito? Beh, se ho indovinato. Se sono stato bravo, il mio tentativo sarà uguale al segreto. Quindi se if tentativo è uguale a dis.segreto, ho indovinato. Quindi cosa posso fare? Sicuramente posso comunicarlo all'utente. txtrisultato, scusate, txtrisultato.appentext, hai vinto. Magari possiamo anche dire con quanti tentativi hai utilizzato. Due punti, più. Di spunto tentativi fatti, più tentativi. Perfetto. Se abbiamo vinto, ovviamente la partita è finita. Quindi ridisabilitiamo la riga per inserire un nuovo tentativo. Layout tentativo? No, come si chiama? Sì. Layout tentativo punto set disable true. Non siamo più in gioco. Quindi la variabile in gioco, che per il momento non abbiamo usato ma non importa, è falsa. E poi diciamo return. Cioè non andiamo più avanti. La partita è finita. Se vuoi puoi iniziarne un'altra. Se invece questa return non è eseguita, in sostanza perché non abbiamo vinto, dobbiamo dire che cosa? Beh, innanzitutto dobbiamo controllare di non aver esaurito i tentativi. D'accordo? Quindi se tentativi fatti uguale uguale a tmax, vuol dire che ho esaurito i tentativi. Cioè non ho indovinato e in più ho esaurito anche i tentativi. In sostanza ho perso. Quindi anche qui un bel messaggino all'utente. E magari stampiamo anche il numero segreto. Il numero segreto era due punti più di spunto segreto. Ovviamente la logica non cambia, cioè dovrò di nuovo ridisabilitare il layout tentativo, dire che non sono più in gioco e ritornare. Allora, questo copia e incolla già mi fa un po' preoccupare, e dovreste farlo anche voi. Quando si copia e incolla del codice uguale in più punti è sempre una criticità, perché adesso qui il giochino è semplice, ma se il programma fosse di mille, diecimila righe, diventa un casino. Anche perché io magari devo modificare una riga in tutte, ovunque io abbia messo questa logica uguale, ma magari lo faccio qui e mi dimentico di farlo qui, e tutto si pianta. Quindi questa è una prima criticità che cercheremo di risolvere nelle prossime lezioni. Ma al momento non preoccupiamocene troppo. Se non ho perso, allora sono in un caso intermedio. Non ho indovinato il tentativo, ma o l'ho fatto troppo basso o l'ho fatto troppo alto. Quindi devo informare l'utente se il tentativo è troppo alto o troppo basso. Beh, posso farlo con una serie di if. Quindi if tentativo è minore di dis.segreto txt risultato punto append text tentativo troppo basso slash n. else. Ovviamente non potrà essere uguale perché in questo caso l'ho trovato, l'ho già controllato prima, quindi questa else vuol solo dire che tentativo è maggiore del segreto. txt risultato punto, scritto male, fatemelo copiare, append text tentativo troppo alto. Manca un'ultima cosa, ho stampato se il tentativo era troppo alto o il tentativo era troppo basso. Qui devo anche decrementare il numero di tentativi disponibili sull'interfaccia. Quindi txt rimasti punto set text integer punto to string di tmax meno tentativi fatti. Sì, l'ho chiamato così? Sì, mi sembra abbastanza, abbastanza, abbastanza ovvio. Ok, dovremmo esserci. Quindi abbiamo il caso della vincita, lo controllo subito, quindi se tentativo è uguale al segreto. Se non ho vinto controllo, ho esaurito i tentativi, è finita perché ho perso. Altrimenti se sono in un caso intermedio controllo se è troppo basso o troppo alto. Proviamolo. Vado sul mail, lo lancio. Nessun errore per il momento, quindi siamo felici. Clicchiamo su nuova partita, otto tentativi rimasti. Proviamo a giocare intelligentemente, quindi puntiamo alla metà dell'intervallo, 50. Tentativo troppo basso. Tentativo troppo basso, quindi sarà sicuramente tra 51 e 100. Proviamo 75, la metà dell'intervallo più o meno, troppo basso. Quindi andiamo avanti, proviamo 90. Ora non sto contando se sto andando esattamente al centro dell'intervallo o no, ma non importa. Quindi 95, adesso sì che sono sicuro di andare al centro dell'intervallo. Troppo basso ancora, addirittura 97. Troppo alto, quindi sarà sicuramente 96. Ho vinto utilizzando 6 tentativi. Sembra proprio funzionare, quindi siamo contenti. Siamo al termine di questa lezione. Vi faccio solo notare un'altra criticità che in parte è collegata a quella del copia e incolla. Come vedete abbiamo utilizzato un unico file per fare in sostanza tre cose. Il controllo della logica, il controllo dell'interfaccia e tutta la stampa dei messaggi, degli event handler, eccetera. Questo è un problema perché il controller diventa un po' troppo complicato. Quindi vedremo nelle prossime lezioni come disaccoppiare la logica del programma dal controllo dell'interfaccia. Questo pattern chiamato model view controller ci permetterà di strutturare meglio tutti i nostri esercizi, compreso, indovina il numero. Ok, per il momento vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.